L'emergenza Covid ha messo in risalto, qualora ce ne fosse stato bisogno, quanto può essere importante la telemedicina che può servire ad accorciare le distanze tra pazienti e strutture, ma anche a effettuare a domicilio trattamenti che altrimenti richiederebbero lunghi spostamenti e disagi per i malati e per i loro familiari. Ma sono state in particolare le potenzialità della teleriabilitazione e il ruolo che potrebbe ricoprire per garantire le esigenze di continuità assistenziale, gli argomenti al centro del convegno nazionale dal tema teleriabilitazione, esperienze e prospettive che si è svolto a Crotone, non a caso organizzato dall'Istituto Sant'Anna che in questo settore investe ormai da anni moltissime energie ottenendo risultati che l'hanno portata tra le eccellenze nazionali. L'ultimo riconoscimento in ordine di tempo è arrivato per Oberon, il servizio di assistenza domiciliare di terzo livello che attraverso la telemedicina pianifica e gestisce l'assistenza domiciliare per 54 pazienti in stato vegetativo di minima coscienza. Oberon è stato individuato da esperti del Ministero della Salute tra le dieci migliori esperienze nazionali di gestione della cronicità attraverso la telemedicina, così ne parla il direttore scientifico dell'Istituto Sant'Anna di Crotone Paolo Tonin. È una delle pochissime che svolge l'attività che viene svolta qua con Oberon perché è una vera attività di continuità assistenziale tra l'ospedale, le strutture di mantenimento e la casa che davvero sono praticamente certo che non ce ne sono altre di simili in Italia. Quali sono adesso i margini di crescita, cioè a cosa si può aspirare? Io ritengo che quello a cui si può aspirare sia fare in modo che questa attività di Oberon sia il più strutturata possibile all'interno della rete riabilitativa della Calabria. Al convegno è preso parte anche il direttore dell'ufficio riconoscimento e conferma IRCS del Ministero della Salute, Maria Novella Luciani. Io mi auguro che strutture come queste vengano valorizzate da quello che è il tessuto regionale dove incombono. Il Ministero sicuramente ha sostegno di questo percorso. Bisogna organizzare i servizi in maniera tale che sia un servizio ma siano servizi di qualità. Quello che sarà importante prossimamente è sempre la selezione di buone pratiche, di contaminazione di buone pratiche e della selezione dei migliori per far sì di sostenere in un contesto di servizio sanitario nazionale che sicuramente è una risorsa infinite, sostenere sempre il meglio che il sistema possa offrire. Quanto sia importante garantire la continuità assistenziale lo spiega Mauro Zampolini, presidente della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica. La teleriabilitazione ha un futuro non solo come televisita ma come una parte che va all'interno dello sviluppo della medicina digitale, cioè riuscire a tenere in carico il paziente dall'ospedale al territorio e l'esempio qui a Crotone di Oberon stava un po' un antesignano di questo modello, cioè poter gestire le persone a casa in una condizione quasi di ospedalizzazione o comunque di supporto di teleriabilitazione. Questo credo che sia un modello da perseguire e non può che andare insieme alla medicina digitale.